La parte di questo convegno si chiama un nuovo modello di presa in carico territoriale, quindi parleremo con i territori e sapete benissimo che da ormai più di 20 anni la sanità italiana non può prescindere dalle specificità di ogni regione, dell'organizzazione di ogni regione, l'abbiamo visto anche nei momenti di crisi come quello che è accaduto 3-4 anni fa. Allora, adesso leviamoci un attimo dalla testa la crisi e l'emergenza, proviamo a immaginarci a come progettare la sanità del futuro nel nostro paese, un paese che come immagino sarà stato ricordato stamattina anche da quello che ho capito dall'intervento del Monsignor Paglia, è comunque un paese che sta invecchiando, che quindi avrà di fronte sempre più un'ampia popolazione di malati cronici, e insomma è dove da una parte la demografia gioca un ruolo importante ma dall'altra parte anche la tecnologia che può essere un supporto alla gestione di alcune patologie. Allora, lo faremo con due ospiti in presenza e uno in collegamento che però si collegherà tra qualche minuto, se ho capito bene, abbiamo qui... Sì, ora abbiamo, se posso fare un intervento pubblicitario, ora abbiamo la fortuna di pensare la sanità digitale, perché abbiamo detto digital health by design, quindi progettare la sanità digitale sin da subito. Allora, per progettarlo occorre pensiero. La fortuna che abbiamo oggi è di avere due direttori generali abilitati al pensiero, che non è una cosa scontata. Che pensa. Che non è una cosa scontata. E i sapiens. Esatto. E quindi l'invito è veramente a pensare insieme a come far partire finalmente una sanità digitale. che non sia soltanto, come dicevamo stamattina, un po' di sale di telemedicina nella tecnologia, come spesso vediamo, girare nei documenti di programmazione. Prego. Allora, sì, l'invito che faccio allo svolgimento di questi 40 minuti, tre quarti d'ora che abbiamo è quello di concentrarci sul futuro. Perché poi, lo dico perché dopo spoilerò un po' quello che ci sarà dopo, invece faremo un po' il punto della situazione su quello che abbiamo adesso. Quindi vi introduco innanzitutto gli ospiti. Giorgio Casati era qui già prima, direttore generale ASL Roma 2. Accanto a lui Paolo Petralia, che è direttore generale ASL 4 Liguria. Mentre si collegherà tra poco, dalle 15.30 in poi, Luca Baldino, che è direttore generale cura della persona salute welfare della regione Emilia Romagna. Allora, per iniziare, iniziamo da Casati che gioca in casa, come si fa a progettare? Abbiamo sentito molto questo by design, poi alla fine vuol dire design e progettazione, quindi dobbiamo occuparci da una parte di tecnologia e dall'altra parte, come avrà ricordato scorsa, di tutti i temi riguardanti la privacy, dove immagino, io non lo so, però immagino abbia detto che non devono andare in conflitto i due diritti della salute e il diritto alla privacy. Come si fa a progettare una sanità del futuro in un paese che è appunto frammentato da questo punto di vista come il nostro e che comunque ha bisogno a livello poi nazionale di una certa uniformità, mantenendo comunque le specificità? è un bel tema, allora per progettarlo by design io penso, non ho grandi dubbi da questo punto di vista, dobbiamo partire dalle persone a cui dobbiamo garantire dei servizi, non è che c'è un altro punto d'attacco, cioè le aziende sanitarie nascono per curare le persone e quindi è partendo dall'analisi dei bisogni che hanno le persone, non solo in termini di stratificazione, cioè quanti sono diabetici, quanti sono ipertesi, eventualmente poi classificati per classi di rischio, ma proprio il tipo di bisogno per accedere al sistema sanitario e ottenere i servizi che sono necessari per trovare delle risposte. Quindi da questo punto di vista non ho molti dubbi. Poi c'è un tema importante che hai posto, cioè come facciamo in un paese così frammentato a garantire da un lato l'innesco del processo, quindi fare in modo che questi processi di innovazione si attivino, ma al tempo stesso garantire l'omogeneità. E qui io sono il solito pierino, non riesco a stare zitto, no? Cioè io non riesco a concepire come l'omogeneità nasca dai fattori di ingresso e non dai fattori in uscita in un sistema. Noi di fatto ci stiamo cervellando su come dobbiamo sfruttare, passatemi questo termine brutto, le innovazioni che vengono poste dal DM77 e che sono sostenute finanziariamente dal PNRR, che per certi versi sono descritte nel dettaglio. Prendo sempre a titolo esemplificativo il caso delle COT, le centrali operative territoriali, che da quando è partito il DM77, anzi da quando è partito il PNRR, io penso che in Italia avremmo fatto almeno 10.000 convegni dove ci interroghiamo a che cosa serviranno le COT, come dovranno funzionare e quant'altro. Però chi ha steso i documenti ha stabilito che sono grandi 150 metri, che hanno un certo numero di stanze, un certo numero di computer, un certo numero di addetti, che avranno le finestre, non avranno le finestre, quanti bagni. Quindi è impossibile che non abbiano anche immaginato tutta questa roba a che cosa dovesse servire e che quindi dobbiamo fare 10.000 convegni per stabilire le COT, a che cosa servono e a che tipo di output dobbiamo orientarci. Scusate, non è banale la cosa, perché è stupefacente sentire che avremo tutti le COT, ma che poi tutte queste COT funzioneranno in modo diverso, funzioneranno in modo diverso da regione a regione, funzioneranno diverso all'interno delle regioni da azienda a azienda, seconda di come poi queste verranno interpretate e rese operative. Volete un altro esempio? È l'ambulatorio H12-H24 delle case della comunità. A parte che nessuno di noi ha ancora capito chi ci lavorerà, perché a volte si parla dei medici in medicina generale, a volte si parla di riorganizzazione dei medici di continuità del territorio. Qualcuno può pensare che magari bisognerà assumere dei medici in più, ammesso che ce ne siano sul mercato. Poi la domanda è, per fare che cosa? Allora, l'omogeneità non si garantisce andando a costruire delle cose che sono tutte perfettamente identiche all'interno di un territorio, ma andando a definire che tipo di risultati vogliamo conseguire. Noi siamo in un paese dove abbiamo il 40% della popolazione che è cronica, che ha almeno una patologia cronica, la metà di queste hanno più di una patologia cronica e una delle cose che tutti noi sappiamo è che una parte importante, tanti di questi patenti cronici, non seguono le cure, non fanno i controlli, è vero? Allora, un obiettivo del tipo, dobbiamo fare in modo che almeno, non so, il 50%, il 70%, l'80% dei pazienti cronici segua il piano dei controlli e il piano terapeutico. È un obiettivo così strano da introdurre. Dopodiché, voglio dire, le regioni, le aziende si organizzeranno per ottenere quel risultato, ma io non riesco ad immaginare che l'omogeneità sparsi attraverso lo stabilire degli standard di personale o degli standard di tipo strutturale per ogni regione, per ogni azienda, perché in realtà, e questa è la storia di tutti i giorni, alla fine i risultati sono diversi. Quindi noi abbiamo bisogno di un'operazione importante che sposti l'attenzione dai risultati che oggi sono identificati come risultato del sistema, che sono prevalentemente orientati alla generazione di prestazioni, a un sistema che invece ha come risultato preso in carico i risultati della presa in carico e della continuità assistenziale che viene garantita ai cittadini, probabilmente anche modificando i sistemi di finanziamento, perché se non facciamo questa operazione è difficile che poi avremo omogeneità sul sistema sanitario nazionale, al di là del fatto che tutte le corte sono grandi ai 150 metri. Non so se sono riuscito a legarmi e se ho dato una risposta. No, no, è chiaro. Quello che le vorrei chiedere è appunto, proprio in fase di progettazione, poi passiamo a Petralia, le stiamo mettendo in pratica, questo atteggiamento di progettazione per il futuro? Perché molto spesso quando si ha a che fare con temi che riguardano appunto il disegno del futuro, il disegno di sistemi che riguardano il futuro, non solamente in ambito sanitario, ma questo in generale, quando c'è di sono di mezzo per forza delle cose, chiaramente le istituzioni che hanno un ruolo centrale in questa organizzazione, molto spesso si fa un po' fatica a guardare nel lungo periodo. Secondo lei, al di là della benzina, dei soldi, del PNRR, di cui parliamo appunto nei 10.000 convegni che citava, c'è questo atteggiamento? Allora, a livello complessivo, ahimè, ho paura di dover dire non ancora. Nel senso che tutte le aziende, penso valga per me quanto per Paolo, quanto per gli altri colleghi, siamo ingaggiati per esempio sulla percentuale di realizzazione del PNRR, non in termini di risultati di salute, ma in termini di realizzazione degli oggetti. L'unico risultato che ci è stato fidato è quello di riuscire ad assicurare al 10% degli over 65 l'assistenza domiciliare integrata, che in realtà sta generando una cosa che conosciamo bene tutti, cioè cominciamo a classificare come assistenza domiciliare integrata oppure l'infermiere che va a casa a fare un'iniezione ad un paziente over 65. Perché poi se ci fosse fuori dalla porta delle nostre aziende una fila di persone che arrabbiate, che non abbiano bisogno di altri, che noi non gliela stiamo fornendo, potrei capire, ma in questa coda non c'è. E quindi noi stiamo cercando di dare l'ADIC con determinate caratteristiche, però se dobbiamo fare il 10% over 65 cambieremo le regole di classificazione delle prestazioni e dei servizi che rendiamo per arrivare al 10%. Ma non penso che sia questo l'obiettivo del PNRR, del DM77 e di tutte le energie che stiamo mettendo in campo per andare in quella direzione. In vero, nelle aziende qualcosa si sta incominciando a fare, nel senso che nelle aziende si sta incominciando a lavorare proprio nella direzione di immaginare un progetto by design che serve per dare una risposta alle necessità dei cittadini. Ovviamente questo lo stiamo facendo con degli approcci che sono tutti buoni, però quello che sto facendo io è diverso da quello che sta facendo Paolo ed è diverso da quello che sta facendo Giulio o quello che sta facendo un altro direttore generale ancora. E allora qual è la strada giusta da percorrere? Cioè laddove manca l'indirizzo di sistema, cioè manca il target da raggiungere, al di là del 10% degli over 65 inadi, il rischio è che il nostro sistema diventi ancora una volta un sistema arlecchino, cioè che ognuno di noi poi inventi delle soluzioni buone a piacere, ma che hanno valore in quella realtà, ma non hanno valore a livello di sistema. Né ancora esiste un meccanismo così virtuoso da intercettare queste sperimentazioni, queste innovazioni che vengono sviluppate nelle aziende per renderle sistema. Il vero, esiste un meccanismo di lettura, di intercettazione di alcune delle esperienze, penso che sia io che Paolo abbiamo ricevuto più di un premio da questo punto di vista, ma quello che andiamo a realizzare poi fatica a trasformarsi in sistema. E questo è un tema interessante che mi auguro poi che possa essere preso in considerazione. Ne parleremo anche nella tavola rotonda successiva, perché credo che questa difficoltà dei progetti a diventare sistema poi crei anche delle difficoltà, per esempio nelle relazioni con le aziende private, che sono alla ricerca di standard, hanno bisogno magari di scalare, di non avere a che fare solamente con una realtà o con un singolo progetto, e c'è bisogno magari di garantire loro maggiore uniformità. Petralia, la prima domanda è la stessa, cosa si sta facendo per progettare la sanità del futuro? Ottimista, pessimista? Ottimista no, by design pure quello. Ottimista, by design, sempre. Intanto grazie per l'invito. Io stamattina ho imparato molto, e lo dico senza ipocrisia o formalismo, perché si coglie la differenza da un convegno dove si conviene, si va e ci si ritrova per ascoltare qualcuno che parla, a un luogo dove ci si confronta, si condivide e speriamo si prosegue in quel cammino che veniva auspicato, ma più che auspicato, che veniva introdotto come prospettiva. e credo che questa sia la precondizione di cui tutti abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di parlarci meno addosso, in libertà, dicendo quello che più o meno ci passa per la testa, come adesso sto facendo io, perché in fin dei conti questo non ha valore. Ha valore invece se portiamo un'esperienza che sia in qualche modo oggettivabile, oggettivata, e questa esperienza possa diventare patrimonio comune. Ora, parto da qui. Io sono medico e come qualunque altro, come dire, professionista di una scienza empirica, è normale che si impari da chi ci ha preceduto e si trasferisca quello che si sta facendo a quelli che seguiranno. È una cosa scontata. Ahimè, non è vero. Nel nostro agire quotidiano questo non è assolutamente vero, perché noi facciamo le cose e poi non riusciamo a dargli continuità di valore perché nella governance multilivello, ma chiamiamo così, per non dire discrasica, per non dire a volte schizofrenica, in cui il nostro paese avvolge le dimensioni centrali, nazionali, regionali, locali, beh, in questa governance multilivello ci si perde e avviene quello che diceva Giorgio un attimo fa, che le aziende vengano premiate dallo stesso soggetto regolatore come esperienze innovative, avanzate, sperimentazioni utili al sistema e poi non vengano chiamate a quel tavolo dove quelle cose vengono decise. Peccato, perché questo sforzo creativo, co-creativo che è stato fatto, è stato oggettivato, eh, con validazioni scientifiche, accreditamenti, piuttosto che certificazioni, poi non venga utilizzato per... Allora, questa è la prima cosa che dico. Ripartiamo da qui, ripartiamo dall'evidenza, dall'evidenza del contributo che ciascuno è in grado di dare. E in questo, lo dicevo mentre mi alzavo con la rettrice, in questo non ci sono da sole le università, per fortuna, perché hanno bene il piacere anche loro di condividere la contaminazione dei saperi con i soggetti che sul territorio questo sapere portano tutti i giorni. Non ci sono solo i ricercatori che stanno nelle università, ci sono anche i practitioner nelle aziende. Abbiamo bisogno di contaminazione anche da questo punto di vista. Non deve essere più scontato, e non lo è, nei fatti, ma lo deve diventare sempre di meno nella teorizzazione anche, che, come dire, il capofilato della produzione di saperi si svolga e attenga soltanto a determinati ambiti. Perché così non è. Le aziende, la parola azienda, dice che mi piacciono le parole, è vero, ma la parola azienda forse non tutti sanno che deriva da agenda. E agenda induce facilmente il concetto di quello che deve essere un'azienda. qualcosa che risponde a delle cose concrete, che noi chiamiamo servizi, risposte ai bisogni, modelli organizzativi, cose concrete che devono dare un senso di realtà a quelli che sono gli sviluppi di pensiero, la ricerca di modelli, la capacità di innovare anche in termini di, come dire, avanzamento avanzamento delle stesse risposte. E chi è che queste cose le fa oltre che ovviamente alle sedi istituzionali dove la ricerca è, come dire, denominazione istituzionale di quel luogo? Le aziende. Durante il Covid dove è stata fatta la ricerca? Quando tutto era chiuso, tranne le aziende. Quando tutto era fermo, tranne che la frontiera o la trincea, chiamatela come volete, delle aziende. e dove non c'erano soltanto i colleghi medici, infermieri, os, ma c'erano anche gli amministrativi e c'erano anche i direttori. Tutto questo sapere che è stato prodotto non sarà più prodotto in quella forma. Perché non farne tesoro? La classe dirigente attuale dei direttori generali attuali è la classe dirigente che ha gestito il Covid. Pensate che sia poca cosa dal punto di vista del patrimonio esperienziale rispetto alla capacità dimostrata sul campo di poter gestire adeguatamente un momento in cui non c'erano libretti di istruzione di nessun tipo. Non c'erano abilitazioni scientifico-disciplinari che potevano attestare ahimè che quella persona è matura per fare qualche cosa. Dico ahimè perché se ci accontentiamo di questo ahimè. Ma c'era la prova approvata sul campo che la gente moriva e che da qualche parte si cercava di dare una risposta. anche con i data anche con gli strumenti regolatori ne abbiamo parlato stamattina ma anche con i modelli organizzativi. Tutta questa roba oggi la stiamo cercando di portare a casa nel post-Covid dove abbiamo detto ripetutamente che nulla sarebbe stato come prima ma in realtà le regole continuano a essere quelle di prima le risorse continuano a essere quelle di prima se non meno le risorse umane il capitale umano oppure peggio e beh allora nulla sarà come prima speriamo proprio che almeno ritorni come prima a quel livello intendo senza essere per carità senza pandemia il allora quale può essere la risposta sintetica a questa domanda dal mio punto di vista che è quello di un'azienda ma anche quello di della visione dello scambio di visioni della contaminazione tra colleghi non siamo tanti siamo nemmeno 200 in Italia direttori generali che gestiscono 130 miliardi di fondo sanitario nazionale ma soprattutto che hanno la responsabilità di tradurre in salute le tasse dei cittadini questa per me personalmente è la più grande responsabilità che mi porta a casa ogni sera il senso di dover tradurre in salute quei soldi lì con quali modelli con quali strumenti con quali possibilità questa mattina sono state usate delle belle parole che io me le vorrei davvero portare a casa come patrimonio personale ma anche come ribaltamento la fiducia reciproca la capacità di basare sulla fiducia reciproca la costruzione di un modello avanzato che sia come dire esaustivo di risposte concrete ma anche tutelante e secondo centrato sull'uomo non sulla macchina la macchina è uno strumento l'uomo è il soggetto pensante per fortuna chat e gpt genera ma non genera giudizio critico almeno per adesso quando arriveremo anche a quello avremo un problema Houston grosso perché lì la sostituzione dell'uomo potrà essere verosimile e lì allora ci porgneremo di nuovo il tema del human centered rispetto a tutto quello che facciamo non è un problema religioso è facile identificare Monsignor Paglia con il tema etico l'etica non è un problema religioso l'etica filosofica l'antropologia fondano l'agire umano è pre religioso se volete allora da questo punto di vista siamo tutti chiamati a mettere al tavolo non soltanto le competenze dei data scientist o dei data steward e nemmeno soltanto quella dei privacy manager mettiamoci anche gli human manager piuttosto che l'ethic manager adesso usiamo questi neologismi così simpaticamente mettiamo al tavolo anche l'umanità la centratura sull'uomo perché poi noi al signor Mario e alla signora Maria ci rivolgiamo e non ci si rivolge il robot ci si rivolge il signor Giorgio e il signor Paolo uomini con uomini relazioni tra persone comunità perché la casa di comunità la medicina di comunità l'ospedale di comunità e tutto questo di comunità vuol dire esattamente questo relazioni tra persone che stanno insieme e costruiscono un vissuto comune in cui trovare quelle risposte concrete io credo che questo lo si possa e lo si debba fare insieme con fiducia centrando sull'uomo la visione dentro la quale dare spazio alla tecnologia dare spazio all'innovazione dare spazio agli strumenti avanzati perché di quello non possiamo fare a meno intorno al 1950 un tizio che si chiamava Jonas un filosofo tedesco inventò il tecnomanesimo e non ne inventò granché disse soltanto che ci voleva un ponte tra tecnologia e umanesimo perché le due cose di per sé da sole beh noi dobbiamo cavalcare per correre questo ponte e cercare di costruire un pensiero che sia fondato e che permetta di costruire modelli che siano il più possibile condivisi oggettivabili e a quel punto trasferiti credo che questo le aziende lo stiano già facendo lo dobbiamo portare a sistema in un sistema di multigovernance complicato a volte faraginoso ma che in questo può trovare una spinta formidabile dal basso io penso che il messaggio che vuole dare Paolo che è sempre illuminato è che attenzione quello come cambierà il sistema sanitario alla luce di tutte le innovazioni che vengono proposte vengono introdotte con la PNRR di M77 è difficile immaginarle no perché effettivamente quanto diventerà digitale il servizio e la vita del signor Mario e della signora Maria che si muove all'interno del sistema sanitario non è dato di saperlo oggi anche perché stiamo camminando su un percorso che è molto dinamico in continua evoluzione quello che è vero oggi non sarà più vero tra una settimana o tra un anno e quindi sarà poi la nostra capacità come dire di interiorizzare di sfruttare tutte le innovazioni che man mano si manifesteranno che porteranno a cambiare continuamente il modello di servizio il modo con cui noi ci relazioniamo con i cittadini per garantire loro dei servizi e quindi voglio dire abbiamo bisogno di uno spazio importante che dal basso cioè dalle aziende arrivi verso l'alto questo meccanismo di riconoscere la capacità delle aziende di mettere a terra le innovazioni in questo momento manca non è pessimismo questo perché se io e Paolo fossimo pessimisti non avremmo fatto assolutamente nulla mentre invece un po' di digitalizzazione noi l'abbiamo fatta allora se l'abbiamo fatta vuol dire che ci crediamo e vediamo una prospettiva un futuro però quello che chiediamo è che ci sia uno spazio diverso cioè non è pensabile ottenere l'omogeneizzazione di una cosa che non si conosce prima la dobbiamo fare la dobbiamo interiorizzare e quindi poi razionalizzare e fare diventare il sistema mentre invece qui l'approccio che si sta seguendo in questo momento in questo paese è quello di avere un modello strutturale omogeneo di cui però non avendo capito quali sono le ripercussioni a valle in termini di ricaduta sul cittadino rischia di diventare ancora una volta un modello arlecchino perché poi ogni regione e ogni azienda lo potrà interpretare ad capocchiam dicono latini per mettere insieme questi ingredienti e produrre un servizio che ha delle sue specificità ma che non hanno ovviamente necessariamente omogeneità con quelli offerti da un'altra parte e della stessa regione ma ha maggior ragione di regioni diverse quindi abbiamo bisogno in questo momento di un aiuto in più da parte delle istituzioni cioè quello di avere un percorso come dire meglio definito per quanto riguarda i risultati da conseguire e probabilmente anche avere una mano nell'andare a regolamentare quelli che io chiamerei come dire le determinanti del cambiamento vi faccio un esempio un esempio che vale per tutti nel DM77 una delle cose che si legge ad un certo punto si parla di percorsi personalizzati individuali è un bel concetto perché pensate che cosa vuol dire per una persona che ha un problema cardiopatico è un problema pneumologico avere un unico percorso che è la sintesi dei suoi problemi di salute vuol dire passare da un modello dove c'è una presa in carico di patologia o un modello dove c'è la presa in carico della persona mamma mia sarebbe la rivoluzione finalmente per fare questo però bisogna capire che cos'è un percorso personalizzato non è che oggi i percorsi non sono personalizzati io qui vedo dei medici in quest'aula e io non penso che se vado da uno di loro mi fanno il percorso stampino di solito quando vai dal medico ti fa mille domande e poi cerca di definire un percorso che è fatto per te per quella patologia però non per te come persona il passaggio è quello di riuscire ad avere il percorso per te che sia sintesi delle varie patologie di questo percorso individuale personalizzato nel DM77 c'è solo la citazione ma non c'è una definizione e non c'è nemmeno come ci si arriva come è pensabile che ci sia omogeneità vogliamo provare a disegnarlo questo modello? si può provare guarda io poi su questa cosa che io ormai sono diventato una macchietta quasi perché da quando ho incominciato a prendere in carico la AS Roma 2 ho incominciato con questa storia della signora Maria quindi facevamo degli incontri infatti si chiedono se la fidanzata quindi questa ipotetica signora Maria che oggi ha una serie di contatti con il sistema quello che io immagino più frequente quando va dal suo medico di medicina generale e ottiene in cambio a fronte delle valutazioni che ha fatto delle ricette che poi spende in farmacia oppure dove al CUP e nel momento in cui le spende al CUP che cosa succede? che in realtà in quel momento la signora Maria si autogenera un percorso perché non è che quello che riesce a ottenere dal CUP è un percorso che è coerente con lo sviluppo logico-temporale del percorso che gli ha prescritto il medico ma è quello che il sistema di offerta è in grado di restituirle non so se sono riuscito a spiegarmi quindi io vado dal mio medico il mio medico dice devi fare questi esami torni tra tre mesi che così facciamo una valutazione ma io dopo tre mesi sono riuscito a fare solo l'esame del sangue e sono riuscito a farli in un punto poi ho una prenotazione per fare il ritrocardiogramma in un ospedale devo fare un eco in un poliambulatorio e devo fare una radiografia dall'altra parte ancora però tutto fuori dai tre mesi allora uno dei punti importanti è cominciare a definire che cos'è un percorso individuale e chi lo regola quindi come si arriva ad ormonizzare tanti percorsi di patologia in un percorso individuale e che tipo di garanzie cioè che modello di servizio diamo alla signora Maria gli diamo la garanzia di percorso cioè gli diamo la possibilità di ottenere quei controlli nel rispetto della sequenza logico-temporale che ha concordato col suo medico di famiglia o il suo medico specialista il suo medico curante se sì vuol dire che poi da un punto di vista organizzativo dovremmo trovare delle soluzioni per gestire in modo dinamico l'offerta garantire garantire le risposte abbiamo bisogno dell'obiettivo abbiamo bisogno della priorità cioè andiamo in quella direzione è il percorso individuale digitale quello che noi vogliamo perseguire e quindi il sistema si impegna a perseguire quel tipo di risultato si organizza per avere quello poi ci sono le slide no le slide raccontano raccontano in modo più no poi ovvio non c'è solo quello c'è tutto il tema una delle cose che noi sicuramente dobbiamo fare per poter dare la risposta alla signora Maria questa è Maria sì sì quella era la signora Maria quello era il casino nel nostro sistema la signora Maria di fronte la domanda era come facciamo ad aiutarla no perché questa donna povera crista si trova di fronte a questo insieme di servizi e francamente fa fatica addirittura a muoversi tra l'altro rispetto al sistema preesistente ci sono tutte quelle caselline gialle che sono le caselline che vengono introdotte da PNRR e DM77 che effettivamente danno l'idea di un aumento della complessità non una diminuzione della complessità cioè per far funzionare in modo armonico tutte quelle componenti è necessario intervenire ma intervenire dando degli obiettivi ben chiari al sistema intanto che cos'è che possiamo fare noi voglio dire è possibile abbiamo cominciato a farlo intanto è conoscere la signora Maria e non è una cosa scontata non è una cosa scontata quindi ogni azienda ha la possibilità di mettere insieme i dati dei propri assistiti con banche più o meno sofisticate però voglio dire io non penso di aver messo insieme banche molto diverse da quella che ha a disposizione Paolo o che ha a disposizione un altro direttore generale che mi consente oggi di fare un minimo di stratificazione della popolazione quindi io so non solo che quella persona ha quel tipo di problema di salute ma so anche qual è il suo grado di rischio una volta che abbiamo la conoscenza della persona e del suo grado di rischio c'è il secondo problema cioè che tipo di risposte diamo a questa persona e qui è un tema di priorità che non possiamo banalizzare nel senso che noi non abbiamo le risorse per dare le risposte a tutti abbiamo le risorse per dare le risposte di base di base a tutti ma più sofisticate solo qualcuno gli altri purtroppo ci mancano proprio le energie allora anche su queste priorità è importante è importante indicare una strada non voglio dire dare delle risposte le risposte dobbiamo trovare noi ma indicare una strada vi faccio un esempio concreto se guardo per esempio la popolazione dell'asroma 2 e guardo il rischio cardiovascolare ovviamente ne abbiamo una quota ad alto rischio medio basso rischio quelle ad alto rischio se io riesco ad attivare le energie del PNRR chiamiamole così per seguirli meglio e garantire loro la capacità di prendere l'incarico seguire eccetera eccetera allungo a queste persone la vita ok riduco la mortalità però il tasso di utilizzo del sistema di queste persone è così elevato che io allungando la vita a queste persone ho bisogno di un altro ospedale quindi se il mio target è quello di abbattere la mortalità introspedaliera delle persone molto gravi devo assumere tante persone metterle in ospedale e aumentare il numero di posti letto se lavoro sulle persone a medio o a basso rischio allungo la vita a queste persone ovviamente perché parimenti a quelli che sono ad alto rischio ma allungo a persone che tendenzialmente addirittura potrebbero arrivare come dire a concludere il loro percorso di vita senza mai entrare nella fase di alto rischio riducendo nel medio termine anche l'impatto sulla rete ospedaliera decidere dove io metto le nuove energie non è banale in un caso assumo delle persone le metto in ospedale e aumento il numero di posti letto da un lato metto le persone sul territorio o nel dipartimento di prevenzione è molto diverso come strategia da seguire non è che la signora Maria se nella fascia molto grave e la fascia molto grave non entra alle priorità la lascio senza servizi le garantirò i servizi che gli sto garantendo fino ad oggi ma il valore aggiunto del PNRR a chi lo assicuro lì ci sono i dati della stratificazione che fanno vedere un po' qual è il diverso utilizzo il diverso utilizzo del sistema secondo della fascia di rischio dove si trova vedete che per esempio guardando l'utilizzo in termini di ricovero in termini di accesso al pronto soccorso per quelli che sono in fascia di rischio alta è molto più elevata rispetto agli altri di questo bisogna essere consapevoli bisogna essere anche molto realisti nell'andare a definire le linee di azione non è una scelta che può fare la singola azienda non è una scelta che io posso scaricare sul singolo professionista è una scelta che deve essere assunta a livello di sistema e che cambia radicalmente anche le prospettive di sviluppo del sistema c'è sicuramente questo aspetto dopodiché noi una volta che queste cose sono state messe tra virgolette a terra quindi abbiamo un sistema di priorità abbiamo un sistema di obiettivi e ci possiamo muovere su dei canali condivisi possiamo sicuramente realizzare le case della comunità e dire che le case della comunità sono i punti di riferimento per i pazienti cronici per la predisposizione dei piani non per garantire tutte le risposte delle prestazioni delle attività diagnostico-valutative che devono fare i pazienti perché la casa della comunità è grande 800 metri quadri un po' di servizi ci possono stare dentro ma se deve servire 50, 60, 80 mila persone non ha la capacità per garantire servizi per tutti c'è un problema di volumi c'è un problema di tipologie di professionalità di tecnologie che posso mettere all'interno di una casa della comunità c'è la libera scelta del paziente cioè ci sono tante variabili che ci dicono che quella casa della comunità dovrà svolgere una funzione di rete con altre strutture poliambulatoriali ospedaliere con la quale si deve raccordare e che per garantire il percorso dovrà ovviamente coordinare in termini di offerta per fare in modo che la risposta arrivino al cittadino possiamo strutturare purtroppo l'animazione è andata possiamo strutturare l'ambulatorio H12-H24 che era quella sul portellino che viene fuori dalla casa della comunità verso il basso per esempio incominciando a lavorare sui pazienti sui fenomeni di reacutizzazione della cronicità lo possiamo fare con degli ambulatori digitali che possono avere la consulenza del pronto soccorso che sarebbe molto più contento nel rilasciare una consulenza a un paziente che è stato visto nell'ambulatorio della casa della comunità anziché averlo tra quelli che sono in direzione ricovero all'interno del pronto soccorso possiamo sviluppare forme di cure a domicilio come abbiamo anche fatto fino ad arrivare all'ipotesi dell'ospedale virtuale con dei reparti veri e propri digitali con i quali i pazienti sono seguiti dalle unità operative ospedaliere attivando il medico medicina gerale o i servizi sul territorio attraverso le centrali operative possiamo fare tante cose all'interno di un disegno che però quello caspita è il disegno che ha fatto la Roma 2 ma va bene per l'Italia non lo so va bene per Paolo non lo so io ho un milione e trecentomila abitanti sono in un'area metropolitana ho una zona ricca e benestante una zona povera e deprivata e con pochi servizi e quello può essere un modello che a Roma 2 ha un senso ma può darsi che nell'ASL chiavarese sia molto meno significativo sia più utile un altro tipo di modello e per cui magari lui sta sviluppando un altro modello queste esperienze però è importante osservarle cercare di capire gli impatti che generano perché dietro c'è un pensiero di modello di servizio per il cittadino e incominciare a capire se questi sono degni per diventare modelli da esportare da valorizzare migliorandoli intendiamoci perché tutto è migliorabile portandoli anche in altra realtà sia all'interno di una regione sia a livello nazionale Io non replico raccontandovi il mio di modelle molto simile eppure avendo un'ASL diversa in cui ci sono ore di macchina tra le zone giusto giuste giuste io stavo dicendo nei monti per arrivare al primo centro abitato ma certamente sono le stesse ore di distanza esatto esatto non le ore no io volevo evidenziare invece sottolineare gli elementi di pensiero che sottostanno a questa metrica a questo disegno tratteggiato che ripeto possiamo sovrapporre facilmente anche alla mia realtà aziendale innanzitutto il fatto che c'è un pensiero e non è banale perché normalmente si risponde improvvisando all'urgenza del momento con noi a Genova diciamo un tappullo per mettere una sorta di piccola toppa al problema emergente ma non in maniera sistematica qui invece c'è un pensiero ed è il primo elemento secondo elemento c'è un pensiero di valore o se volete di value o se volete di evidenza sull'outcome e non soltanto sul volume o sulla quantità o sull'effettuazione di quella prestazione e poi c'è un pensiero digitale un pensiero digitale una e-leadership prima che una traduzione informatica di un gesto che veniva fatto in un certo modo e che viene solo tradotto oggi in maniera digitale queste tre cose fanno la differenza poi ce ne vogliono tante altre ma almeno queste tre e fanno la differenza su una modellistica che permettetemi di ricordarci che è una modellistica di trasformazione non soltanto digitale ma aziendale a tutto tondo se noi oggi pensiamo al nostro sistema sanitario nazionale pubblico che ha un terzo circa di scopertura rispetto al fabbisogno in termini di risorse rispetto al fabbisogno di salute che oggi il paese esprime auto pocket 40 miliardi quindi 170 miliardi ma sempre mal contati di consumo di prestazioni sanitarie a fronte di un fondo che è di 130 135 quindi insostenibile dal punto di vista della capienza e ancor più insostenibile rispetto alla piramide demografica che ci attende di fronte a questo noi abbiamo due fondamentalmente strade e non lo dico io ormai è palese opinione comune che una strada sia promuovere la salute e prevenire la malattia prima che curare perché noi non saremo in grado di curare tutti i vecchi chiamiamoli pure come ci dicevamo signor Paglia in maniera affettuosa e oggettiva che avremo per le mani noi compresi tra qualche anno e dall'altra parte insieme al concetto di promuovere e prevenire la salute prima che curare e riabilitare dall'altra parte farlo con questa modellistica che sia fondata sul value e sul digital health allora in questo queste esperienze hanno già in sé i valori fondativi il pensiero sistemico la capacità di tradurre value e la capacità di mettere in campo il digitale passare dalle prestazioni alla presa in cura si sta dicendo sempre di più come mantra a tutti gli innimorevoli convegni dove andiamo a sentire qualcuno che ci racconta qualcosa e sempre di più si sente dire dobbiamo passare a un sistema che trasforma l'idea di prestazione in un'idea di restituzione non possiamo inseguire liste d'attesa insegnano la richiesta la domanda dobbiamo governarla la domanda sia perché l'offerta non la raggiungerà mai sia perché noi abbiamo bisogno di farlo in maniera si dice appropriata e beh ma anche sostenibile capace di dare quella risposta allora concludo mi pare che questa capacità di sperimentare vi racconto in parentesi quadra solo questo piccolo aneddoto io arrivo nella mia ASL dopo dieci anni di IRCS universitario quindi facendo tutt'altro vado a fare il direttore di una ASL e inizio le vaccinazioni primo gennaio 2021 lo faccio adottando la tecnica lean che nell'azienda non era nota e cerco di digitalizzare immediatamente quel processo in maniera però sistemica dovrei che scrivo un piano strategico triennale basato sul value e sul digitale ma perché vi dico questo perché tutto ciò si è tradotto nella conquista tra virgolette di un finanziamento della conferenza stato e regioni sui progetti di prossimità quando c'era ancora il DM 71 cioè il non DM e quando si parlava di fate delle esperienze per vedere come funziona la sanità di prossimità ve le finanziamo e poi raccoglieremo i risultati ce l'hanno finanziato abbiamo printo i premi speriamo che possa essere utilizzata quella questa e quante altre ci sono in una prospettiva sistemica era questa la conclusione cerchiamo di valorizzare il significato esperienziale il significato sperimentale ma anche l'oggettivazione noi l'abbiamo fatta certificare mentre la facevamo da Accreditation Canada uno dei due accreditatori internazionali l'unico con lo standard sulla telemedicina però qualcuno terzo che ti viene a dire anche dall'estero guarda che sta roba funziona non me lo dico io chi sono io il massimo dell'autoreferenza nella mia azienda questo permetterebbe in una logica win-win di trasferire ad altri dei modelli che non è detto che funzionino come ha detto bene Giorgio ma almeno sono un patrimonio comune da cui partire per non inventarci nulla ma partire da ciò che già è stato provato sul campo con fatica con tempo per non farci essere in ritardo su quello che è il presente non il futuro è il presente prego volevo dire che è interessante come questi modelli di cui parlate riescano ad accogliere la complessità ad esempio l'idea di passare da un un modello centrato sulle patologie a un modello centrato sull'individuo è un salto quantico direi quasi perché la nostra mente ha bisogno sempre di separare di categorizzare di fare categorie e allora la medicina che cosa fa suddivide l'uomo in qui è l'occhio e l'orecchio e questo ha accompagnato la scienza medica il metodo scientifico in tutti questi anni l'idea di ricomporre la signora Maria non è un fatto banale però è inevitabile cioè la scienza medica si è evoluta per fortuna perché nessuno si farebbe curare da un medico di 80 anni fa che è quello che spera tutto perché in realtà rispetto al medico di oggi che è specializzato in quel determinato ambito per quella cosa specifica non sa assolutamente nulla e quindi il nostro problema di salute poi ha una caratterizzazione specifica e vogliamo che venga seguito da uno che ne sa uno bravo da uno bravo però il fatto che io venga seguito da tre quattro cinque professionisti diversi alla fine rischia di mandarmi anche al dipartimento di salute mentale d'accordo cioè il rischio ecco che una persona a un certo punto va in burn out per essere curata mentre invece abbiamo ancora le figure del medico di medicina generale dell'internista dentro l'ospedale figure che sono capaci ancora di ricomporre la persona e affrontarla come essere umano prima ancora che come patologie allora siccome queste figure le abbiamo non le abbiamo perse hanno un valore straordinario oggi hanno un valore straordinario rispetto al fatto ripeto che per fortuna la medicina si è evoluta abbiamo degli specialisti straordinari di cose molto puntuali ma che ovviamente non hanno la capacità di inquadrare quel problema di salute nel quadro complessivo della persona e in questo il digitale dovrebbe aiutarci a ricomporre perché mette insieme metterete perché se io sono molto bravo su un aspetto molto particolare può darsi che il digitale mi riempia di informazioni diverse ma non è detto che io sia capace di elaborarle o di interpretarle quindi ho bisogno del soggetto che è in grado di elaborarle interpretarle e questo non può altro che essere colui che si prende cura della persona prima della patologia e se consenti un soggetto umano perché è proprio quello che fa la differenza la sintesi critica tra l'uomo e la macchina allora abbiamo informazione che Baldino non riesce per insomma problemi sopraggiunti a non collegarsi diciamo che proprio abbiamo riempito tanto nello spazio abbiamo riempito nello spazio io ho un'ultima domanda prima di passare al panel successivo allora abbiamo evocato molto spesso la tecnologia anche in maniera distopica dicendo serve un soggetto umano che abbia insomma contezza del quadro generale anche della persona io non credo che al momento ci sia questo pericolo di avere invece dei soggetti artificiali che insomma nessuno lo sta pensando nessuno lo sta disegnando però quello che mi interessava capire anche un po' per giustificare il mio ruolo qui visto che un giornale come Wired che ruolo ha la tecnologia in tutto questo in una tecnologia che comunque ha dei cambiamenti molto veloci prima Petralia faceva riferimento a ChatCPT se avessimo fatto questo evento non dieci anni fa ma un anno o due mesi fa non avremmo parlato di ChatCPT anzi gli investimenti in intelligenza artificiale da parte dell'azienda stavano già calando poi è arrivata intelligenza artificiale generativa e sono ripresi da Microsoft in su con grandi investimenti qual è il ruolo della tecnologia e come si maneggia un oggetto che cambia così velocemente disegnando invece scenari che sono più a lungo periodo cominciate come dire cerco di essere davvero breve perché poi io mi occupo proprio di etica e tecnologia quindi potrei parlare tutto il giorno quindi faccio solo una battuta penso che oggi sia distractive il proprio immaginarsi a confronto uomo e tecnologia fino a ieri questo non era un problema l'uomo era padrone della tecnica era capace di governare lo strumento creava lo strumento per usarlo lui oggi si introduce il concetto il ragionamento la prospettiva che la macchina non solo possa essere possa essere ma ci siamo vicini autosufficiente nel generare se stessa nel come dire nel porsi poi sulla scena ma anche che possa addirittura sostituire l'uomo nell'input iniziale tanto che se qualcuno se n'è andato e poi è stato richiamato e poi se n'è andato di nuovo nei colossi che si occupano di questa roba è proprio perché si è reso conto del pericolo del gravissimo rischio che stava per generarsi da sostituzione io non sono d'accordo che non sia così vicino allora che cosa serve serve un robusto recupero della centratura sull'uomo dal punto di vista antropologico chi è l'uomo perché verso dove e in questa logica nelle scienze umanistiche ma anche nelle scienze empiriche il recupero di un rapporto corretto tra uomo e tecnologia ci porterà ad usare la tecnologia sempre di più e sempre meglio perché guai a immaginare che non serva o che non debba essere come dire sostenuta nel suo sviluppo ma al tempo stesso senza confonderne la natura l'ha detto bene Don Vincenzo Monsignor Paglia quando parlava della intelligenza in realtà è un termine sbagliato condivido non è intelligente di intelligenza artificiale per lo meno non lo è nel senso della parola intelligenza attribuita all'uomo sposo quello che ha detto Paolo quanto andiamo d'accordo di lui un altro matrimonio un altro matrimonio e poi invece aggiungo una riflessione che è molto più terra terra scusate io sono meno filosofico se noi ci interrogassimo su qual è la miglior macchina da guidare e come gestiamo diciamo l'innovazione che c'è sulle autovetture perché anche sull'autovettura ci concentrano molto sull'aspetto tecnologico ma se noi ci domandassimo devo andare ad Ostia e devo arrivarci entro le del tal giorno e probabilmente cambia il nostro modo di ragionare di scegliere l'autovettura e di governare l'innovazione allora non concentriamoci solo sugli strumenti perché sugli strumenti poi alla fine il dibattito ahimè rischia di sconfinare su tematiche che peraltro non sono necessariamente immediatamente poi mi rendo conto che i tempi possono essere più brevi che una volta che si sdogano qualche cosa poi alla fine vuoi rischiare anche di non governarla più però voglio dire se noi abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare il tipo di strumento e come cavalcare quello strumento ci risulta molto più chiaro rispetto che parlarne in astratto e allora ragioniamo su quello che dobbiamo fare cosa deve fare l'uomo con la tecnologia e poi decidiamo che tipo di tecnologia come la governiamo perché finché parliamo della tecnologia è chiaro che il tema che poi ci sostituirà verrà fuori continuamente ed è un aspetto che ci fa paura non so se sono riuscito a spiegarmi questa sia una differenza sostanziale sappiamo che dobbiamo fare quelle cose poi usiamo i migliori strumenti possibili che ci vengono messi a disposizione però non è un discorso sulla tecnologia to cure e isolato dal resto del mondo da un qualche cosa di funzionale ad un risultato che l'uomo deve raggiungere e allora forse la rendiamo all'interno di un contesto un pochino più gestibile totalmente d'accordo tanto che secondo me il problema etico filosofico di cui si è parlato immagino anche stamattina riguarda non solamente la tecnologia ma anche il modello di società che abbiamo in testa i modelli economici perché non è che l'essere umano sia stato trattato fin qui bene sebbene non ci sia stato sempre l'intelligenza artificiale allora grazie a tutti